musica 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 amore che ne dici di multiplayer? se vuoi ti do la pace MARCO! è uscito il nuovo gioco di Pokémon andiamo a GameStop a comprarlo no no, sono più emozionato di quella volta che ho provato a chiedere all'autografo a Favij si Favij, mi fai un autografo? no si, andiamo a fare 6 ore di fila per comprarlo anche 12 ne possiamo fare andiamo? quale 7 ce li hai? si! andiamo! andiamo! assassin creed e se io ora mi scarico qualche gioco la dovete smettere bella a tutti ragazzi sono sono Favij e mi faccio i milioni giocando a questi giochi di merda bellissimo questo nuovo gioco adesso spacco tutto lo distruggo, lo finisco subito eh è morto playstation playstation guaglio no, il calcio con PES è il più meglio di... è più calcioso qualcosa che si va a dire è FIFA allora ti fa proprio fifare al do oh, FIFA è il do PES che tu PES si pensa che è meglio ma che FIFA è il meglio in assoluto pesante, più pesante PES FIFA è il migliore PES FIFA PES hai FIFA poter? hai FIFA poter? hai FIFA poter? e per questo mi merito il titolo di Pro infatti io il mio ID si chiama Dark Souls Nipper Pro Black Magic iper... pro ora manderò l'invito a tutti gli amici per giocare Candy Crush sanno sicuramente contentissimi questi Pokémon di nuova generazione me fanno cahà pupatemi la fava Pokémon di nuova generazione ma quello sulla maglietta non è Mega Chizer? no destra, sinistra, tutto buio, nemmeno un pezzo di focaccia non beppa davanti ma magari pure il posto lo devo trovare e devo morire ma porca miseria maledetto quel Gesù Cristo nooo che significa? bestemmio in latino e se io ora mi cerco qualche guida di gioco su Google la dovete smettere se è notto vabbè ragazzi stiamo per iniziare la partita tutti pronti? Roger Capo di vitalizzazione siete provati ragazzi? si mi hanno ucciso già chi stracacchio è che mi ha ucciso? copami a capo sbagliato sbagliato l'ha rotto tutto ciao ragazzi ciao ragazzi siete dei mostri proprio una comunicazione importantissima importante cosa dobbiamo dire? che cosa dobbiamo dire? che noi probabilmente il 13 dicembre saremo a Bologna al Motor Show per il perché ci stanno i webshower WebShower! Ma scherz, però se non sbaglio il 13 non possiamo. Eh, non lo so, perché forse avevo quell'impegno che dovevamo contare i granelli di sabbia sulla spiaggia. Sì, morti, verrete con me. Conquista il tuo biglietto gratuito. Grazie per la visione!